Ciao a tutti, il nostro consiglio di oggi è il romanzo possumo di Kent Aruf, Le nostre anime di notte. Una storia dolce e vera di due anziani, entrambi vedovi, che decidono di tenersi in compagnia tutte le notti contro il pregiudizio e i pareri dell'intera cittadina di Holt. Un consiglio per tutti quelli che hanno amato Aruf con la trilogia della pianura e anche per quelli che ancora non l'hanno conosciuto.